Cultura è molto buono, ma anche nelle nostre treze notizie ma nemmeno è detto, se non sei lei del Miss con Miss Prittina, non sei Miss King Tourism e Miss Tourism, hai parlato? 5,5,3? E se non è il stranico, dovete trovare già sabrò nel Holiday Beach Hotel, che è il televidente che si vanno a guardarci, ma si vanno a guardare che è da ONN con il certame dovete trovare, anche se vanno a guardare e comedia con i gente, 26, 27, 28 di ottobre la mia colonna con Edion, Lenzi, Vaudervol e come l'ho, come l'ho. Così ci chiede la fine del finale e se non, hai comportato? Hai comportato te vedi, hai comportato e ti troppo? Hai vedi, hai comportato? Hai vedi, non ti faccio? Hai vedi a tutti i giorni? Hai vedi, nel posto che fornittai leindre ma non mi accanto. Ma è un po' però no, non mi accanto èодice più ormai, perché non mi accanto è l'abile ma qualcosa d'escezi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti